La zona di Capo San Marco Le prime segnalazioni a polizia, carabinieri e circomare sono arrivate all'alba. Tra Capo San Marco e Maragani c'erano gruppi di extracomunitari in cammino verso Sciacca. Immediati sono scattati i controlli in tutto il territorio cittadino. La città è stata setacciata palmo a palmo ed in poche ore sono stati trovati 12 clandestini, pare di nazionalità egiziana. La zona dello sbarco sarebbe stata localizzata tra Capo San Marco e Maragani dove i carabinieri hanno trovato i primi clandestini. Altri sono stati rintracciati dal circomare in Contrada Foggia ed un gruppo è stato bloccato a metà mattinata dalla polizia in località Tabasi vicino al Giovanni Paolo II. Nessuna traccia dell'imbarcazione con la quale sono arrivati i clandestini. Ma perché Sciacca che soltanto in rare occasioni era stato luogo di approdo dei clandestini questa volta è stata scelta per lo sbarco lo abbiamo chiesto al comandante del circomare, tenente di Vascello Daniele Governale, che fa anche il punto sulle ricerche. Evidentemente è nata una riorganizzazione delle modalità di arrivo, riorganizzazione di questi flussi di immigrati. Questa mattina abbiamo avuto questa segnalazione di immigrati clandestini che si trovavano già a terra. Noi abbiamo attivato subito il nostro dispositivo navale, infatti abbiamo in questo momento la dipendente MotoVedetta 815 e la MotoVedetta 527 che ha inviato con Palmare Porto Empedule per illustrare il tratto di costa interessato. Non avete trovato però alcuna imbarcazione fino a questo momento? Fino a questo momento no, stiamo anche facendo una perlustrazione dedicata all'eventuale ricerca di naufraghi per scongiurare il pericolo di qualsiasi persona in mare. Lo sbarco dovrebbe essere avvenuto nella zona compresa tra Maragani e San Marco? Beh sì, è presumibile. Dalla zona di ritrovamento a terra dei clandestini, proprio in questo momento ne sono stati rinvenuti altri tre in zona Foggia.